sono le riprese con la macchina fotografica un nuovo strumento ne ho fatto soltanto un pezzetto nell'intero panorama quello dove c'è l'argentato dove ci sono il mare che con le tremebrezze e comunque un mare pieno di argento dovrebbe essere una fetta piuttosto contenuta il mare si vede una barca una volta che purtroppo c'è un passaggio ininterrotto di automobili siamo su una statale finiamoci comunque si vede sullo sfondo ancora l'isola d'elba lo lasciamo ancora per qualche decina di secondi e poi lo interrompo il tempo sufficiente e necessario per trasferirlo su youtube come così vedere un attimo qual è la situazione ora voglio riprendere soltanto un secondo quella che è la bandiera tricolore ecco dovrebbe essere in questa direzione salvo errori infatti c'è ora ero abituato al tremolio delle mani ora non ci sono più tremolini le riprese sono fisse sull'oggetto o sul soggetto basta dialogarlo un pochettino ecco qualche pacchetto lasciano la scia ora stop basta arrivare ci e basta stop